nel 2024 eco isole intelligenti in tutta la zl pesarese da villa marina alla mascarucci all'asta 10 immobili comunali villabetti dopo la frana riapre via molini primo compleanno per il museo archeologico liveriano il natale della vl con un cinzarini in più buonasera a tutti voi telespettatori e telespettatrici di rossini tv ben ritrovati a rossini news il nostro telegiornale del canale 80 che in questa edizione di giovedì 14 dicembre apriamo occupandoci di una novità in arrivo nel 2024 del centro storico di pesaro un centro che dirà definitivamente addio alla raccolta differenziata dei rifiuti con la formula del porta a porta dopo 14 mesi di sperimentazione con le eco isole intelligenti posizionate in sei postazioni del centro la cifra è ora destinata a triplicarsi nell'anno nuovo con una copertura del servizio per l'intera ztl tempi e modalità d'attuazione verranno comunicati lunedì da comune e marche multiservizi il centro sportivo di villa marina la scuola mascarucci l'ex carcere minorile sono questi tre dei dieci immobili di proprietà comunale che andranno all'asta fra poco più di un mese il 24 gennaio nella sede del comune di pesaro andranno all'asta pubblica con il metodo delle offerte segrete al rialzo dieci immobili di proprietà comunale del valore complessivo di base d'asta di poco inferiore ai 5 milioni di euro il comune intende infatti rigenerare gli immobili con nuove funzioni per generare investimenti a beneficio del territorio tra questi si punta a recuperare l'impianto di villa marina che viene alienato mantenendo la destinazione sportiva quasi 5 mila metri quadrati sul lungomare che partiranno dalla base d'asta di 850 mila euro vall'asta anche la scuola mascarucci di soria con nuova destinazione urbanistica residenziale terziario che il comune aliena con base d'asta di poco inferiore ai 2 milioni di euro rientra nel bando anche l'otto di via degli artigiani 9 originariamente adibito a scuola oggi sede del centro di aggregazione totem di villa san martino che necessita di importanti interventi di manutenzione straordinaria un'asta che comprenderà anche terreni edificabili in via condotti a muraglia e in via fastigi stessa zona per l'ex delegazione villa fastigi in quello che era un edificio scolastico con valore di 208 mila euro all'asta anche tra i mobili situati in via piola torre di montecchio di valle foglia vale a dire due negozi e gli uffici dell'ex poliabolatorio asur dopo quasi un anno la frazione pesarese di villa betti nel municipio di monte ciccardo è pronta ad essere ricollegata da via molini una strada che a inizio 2023 fu protagonista di una frana che divenne una vera voragine dopo l'alluvione di maggio scorso che di fatto spaccò in due la frazione il cantiere avviato a settembre dal comune consentirà lunedì l'attesa riapertura della rete stradale ed è invece passato un anno esatto da quando la cultura pesarese si è riappropriata del museo archeologico oliveriano dopo un decennio di chiusura per ammaloramento e lavori di ripristino un compleanno che è stato celebrato ieri a palazzo almerici un palazzo che ora è sottoposto ad un'altra imponente ristrutturazione che però non interropperà i servizi di biblioteca e del museo come possiamo vedere in questo servizio le rievocazioni in costume e i percorsi interattivi per bambini l'evocativa performance reminiscenza di frida neri e anissa guisi fra reperti millenari l'inclusività di un'archeologia vista attraverso il linguaggio dei segni di enrico belloni così il museo archeologico oliveriano ha celebrato il primo anno di riapertura in allestimento rinnovato da quel 13 dicembre di un anno fa che riconsegnò l'istituzione culturale alla città dopo un decennio di lavori di ripristino compleanno celebrato la maniera in cui è stato trascorso il primo anno all'insegna di interattività e multidisciplinarità quest'anno allo scadere del primo anno abbiamo pensato comunque di ricordare quel momento e di fissarlo in questo pomeriggio di festa e di poi sempre però pensando a quello che sarà e quindi continuando comunque pianificare le nostre attività le nostre iniziative e dedicando parte del pomeriggio ai più piccoli ai bambini perché quello che vogliamo vogliamo fare sempre comunque pensare ai più giovani a quelli che insomma cresceranno e l'idea che possano crescere anche conoscendo in maniera più dettagliata ma anche in forma giocosa se vogliamo le origini della città di pesano ma non solo della città di peso insomma ci sembra un bell'obiettivo da perseguire in questo anno ha proprio rivoluzionato il sistema del museo non è più il sistema frontale della passività di quello che uno vede ma è proprio la volontà di farlo vivere e farlo proprio interagire insieme a soprattutto alle scuole tanti ragazzi lo hanno visitato il museo conserva le radici della nostra popolazione della nostra città e narra esattamente perché siamo qui e perché siamo così e perché la città è così e questo è un dono importante che noi facciamo alle nuove generazioni perché tutto ciò che racconta una storia è fatto per chi deve costruire il futuro quindi i ragazzi bambini che costantemente cerchiamo di coinvolgere in attività culturali all'interno di questi ambienti di questi spazi sono particolarmente interessati a tutto ciò che vedono perché non lo vedrebbero in nessun'altra parte dei loro luoghi che frequentano abitualmente è un posto bellissimo è un posto che sembrava un sancta sanctorum ma che sta accogliendo schiere di giovani che vogliono capire che cosa c'è quali sono i tesori nascosti da questi da questi meravigliosi armadi e per il museo liveriano dove è nato il nostro esistere Qua c'è davvero un patrimonio storico incredibile storico archeologico è un museo con un allestimento molto semplice e molto efficace e quindi siamo molto contenti della vita di questo museo e in generale degli investimenti che stiamo facendo su questo palazzo tutti hanno visto l'impalcatura purtroppo abbiamo dovuto anche interrompere via Massa però abbiamo ottenuto grandi risorse per sistemare tutto Palazzo Almerici quindi avremo l'opportunità di riqualificare complessivamente questo luogo fondamentale per la storia della città ma anche ovviamente per il suo futuro Le impalcature che ci circondano potrebbero far pensare che in effetti la biblioteca e il museo siano chiusi o in procinto di chiudere in realtà non sarà così in qualunque modo sarà possibile manterremo attive le nostre le nostre strutture quindi sia la biblioteca che il museo chiaramente dovremo adeguarci a quelle che saranno le esigenze dei lavori lavori importanti che vedranno la ristrutturazione dell'intero Palazzo Almerici e questo devo dire che è un'occasione importantissima e fondamentale per noi perché finalmente potremo avere quando i lavori saranno finiti una sede più sicura innanzitutto e poi anche più adeguata alle esigenze di una biblioteca e di un museo come la nostra quindi lo continuiamo a dire la biblioteca e i musei oliveriani non chiudono non hanno nessunissima intenzione di chiudere anzi intendono proseguire sempre con un bel entusiasmo le attività già intraprese da qualche anno a questa parte e vi ricordiamo che potrete ulteriormente approfondire questo primo compleanno del museo archeologico oliveriano di pesero nello speciale realizzato da Rossini TV che trasmetteremo domani venerdì 15 dicembre alle ore 20 il giorno seguente sabato 16 dicembre alle 21.20 trasmetteremo invece un approfondimento su un tema delicato come quello dell'abuso di alcol attraverso il progetto Bevi e Responsabilmente che è stato presentato ieri nella sede di Confcommercio Marche Nord vediamo di cosa si tratta in questo servizio educazione e informazione per consumatori ed esercenti e ancora rispetto delle regole e rispetto della propria città tanti temi legati nel contenitore di Bevi e Responsabilmente progetto nazionale di FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi e dell'Associazione Nazionale Magistrati declinatosi ieri nella sede di Confcommercio Marche Nord in un altro tassello di sinergie fra associazioni di categorie, istituzioni, forze dell'ordine e studenti verso legalità e contrasto all'abuso di alcol noi oggi ci proponiamo un modello vincente di pubblico esercizio che diventa presidio sì di socialità ma anche presidio di sicurezza e quindi di qualità noi chiederemo oggi tutte quelle che sono delle normative nazionali che vengano ovviamente rispettate insieme alle ordinanze locali ma che diventino però un connubio, un equilibrio, un fare rete tra quelli che sono i ragazzi quindi dell'alberghiero, i ragazzi che usciranno diventeranno datori di lavoro piuttosto che dipendenti all'interno dei nostri locali ai locali stessi che diventano presidi di sicurezza e infine al consumatore finale che deve con piccole norme, piccole regole riuscire a garantire non solo la qualità del bere quindi del poter scegliere gli esercenti di fiducia e di qualità ma anche quello di rispettare la città dove si vive e si abita Sono dei dati che attestano che purtroppo effettivamente il problema di giovani che approcciano troppo presto al consumo di bevande alcoliche esiste ed è un problema che va assolutamente affrontato in maniera anche molto forte il nostro ordinamento già prevede determinate norme per cercare di evitare che questo avvenga la prima che interessa direttamente i nostri esercizi è proprio il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18 addirittura nel caso in cui avvenga la somministrazione al minore di anni 16 si entra all'interno di una responsabilità di tipo penale quindi è già un problema che è affrontato al nostro ordinamento probabilmente bisogna fare qualcosa di più l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è uno strumento per tutelare in qualche modo e garantire che l'uso dell'alcol nelle nostre attività sia dato e distribuito in maniera corretta difficilmente uno che ha un'attività di somministrazione di alimenti e bevande rischia sospensione della licenza oppure molte salate che vanno da 500 a 2.500 euro perché dà da bere a un minore oppure perché dà da bere a un qualsiasi stato di ubriachezza quindi diciamo che noi in tutti i settori riusciamo a tutelare anche quello che è il consumo dell'alcol e poi ci mettiamo sia la faccia che poi le proprie licenze è evidente che un fatto sociale un fatto di costume così profondo, così antico non può essere gestito con un chiave puramente repressiva siamo brevissimi a fare repressione però non sposta di un millimetro la faccenda secondo me un atteggiamento concertativo tra tutte le componenti che sono imprenditoriali che sono istituzionali su un tema specifico va fatto significa che mettersi al tavolino significa fare patti da gentiluomini e poi rispettarli quindi mi riferisco al rumore agli elementi di degrado all'erogazione e alla somministrazione di bevande alcoliche tutto questo non può essere lasciato a singolo operatore o a una categoria che viene fatta ballare sul filo bisogna ragionare tutti quanti insieme è un problema che ha dei risvolti di carattere sanitario che ha dei risvolti di carattere sociale e anche purtroppo se guardiamo i tanti incidenti che avvengono nel nostro paese vediamo che giovani e non giovani spesso sono con dei tassi alcolemici più alti di quello che sono le previsioni di legge per questo noi riteniamo che il tema vada affrontato con severità con serietà e con continuità attraverso progetti di formazione e informazione occorre continuare e progetti come questi vanno nella direzione giusta proprio perché se si vuole intraprendere anche quel cambiamento culturale che soprattutto quando ci si mette la guida su un utilizzo responsabile dell'alcol bisogna continuare a lavorare giorno per giorno in particolare coinvolgendo i giovani ma non solo anche responsabilizzando le attività anche facendo un lavoro proprio sinergico come tavoli di questo tipo servono Taglio del nastro questa mattina a Pesaro per un nuovo supermercato o meglio un superstore quello di via del 900 angolo via Bonini in zona celletta Santa Veneranda che vi mostriamo in questo servizio Noi siamo una cooperativa un'azienda della distribuzione alimentare di natura cooperativa nasciamo oltre 50 anni fa in provincia di Ancona dove abbiamo tuttora la nostra sede la nostra realtà distributiva è costituita quindi da un centinaio di punti vendita gestiti da soci per la quasi totalità sono distribuite nelle varie province delle Marche una decina sono invece presenti in Abruzzo per la prima volta con questo superstore di Pesaro ci affacciamo nella provincia di Pesaro e ci auguriamo che sia il primo di una lunga serie di punti vendita Oggi siamo qui a Pesaro abbiamo riqualificato questa zona che ultimamente era leggermente degradata quindi abbiamo fatto questo bellissimo punto vendita e speriamo di essere accontentare tutti i clienti di Pesaro di questa zona è un supermercato di 1500 metri quadri con tutti i reparti freschi molto assistiti abbiamo tanti prodotti locali e quindi vogliamo entrare all'interno della città di Pesaro offrendo un grande servizio e mostrare quello di cui siamo capaci l'azienda del territorio infatti la sede centrale a Camerata Picena è un'azienda inserita molto nel contesto marchigiano nel contesto regionale e quindi noi vogliamo portare avanti come punto vendita di Pesaro sono stati completati due importanti interventi di manutenzione nella scuola primaria Arca delle Colline di Santa Maria dell'Arzilla e in quella dell'infanzia Mille Luci di Candelara installati in piatti fotovoltaici sostituiti in fisse coperture e sistemato il verde esterno della scuola appunto di Candelara firmato invece l'accordo tra il ROF e il Conservatorio di Shanghai che ampila le cooperazioni del festival pesarese con la realtà culturale cinese la cerimonia si è svolta al Music Castle del Shanghai Conservatorio of Music alla presenza dei vertici del ROF Daniele Vimini e Cristia della Chiara insieme al presidente Liao Chang Yong ed ora vi segnaliamo tre convegni che si terranno a Pesaro domani venerdì 15 dicembre il primo a partire dalle 15.30 all'Alexandre Museum Palace Hotel è Mensana in Corpore Sanu un seminario dedicato a buona alimentazione legata allo sport e alla salute mentale dell'atleta organizzato da piattaforma solidale e SD Futura Pentathlon sempre a partire dalle 15.30 la biblioteca Bobbato Liscop Istituto di Storia Contemporanea organizza il convegno strani rimbalzi Pesaro Venezia Livorno la pallacanestro e non solo dialoga con la storia cittadina e invece alle 16.30 nella sala del Consiglio Comunale legambiente Pesaro e legambiente Marche organizzano il convegno rifiuti una risorsa per l'economia circolare ed ora parliamo di spettacoli sabato 16 dicembre alle 21.15 domenica 17 alle ore 17 nella sala ex cinema di Borgo Santa Maria si terrà l'anteprima della nuova produzione teatrale del Teatro Le Ombre I bei tempi scritta dal drammaturgo Aureliano Delisi con la direzione regia di Ciro Limone il Teatro Le Ombre con questa nuova produzione conferma la sua vocazione educativa alle arti in particolare al teatro delle nuove generazioni portando in scena gli attori più giovani della sua compagnia e invece domenica 17 dicembre alle 18 nuovo appuntamento al Teatro Comunale di Monbaroccio con Martina giovane cantautrice hip hop che si esibirà accompagnata dalla chitarra di Bluciano alternando le sue canzoni a letture di testi letterari che hanno contribuito a ispirare la sua scrittura e formare il suo immaginario, la sua passione per la metrica, le parole e il loro incastro ed ora andiamo a vedere le immagini di un concerto molto particolare quello della scuola Leopardi di Pesaro il cui coro di bambini ha duettato con un ospite molto speciale è stato un concerto di Natale indimenticabile per l'istituto comprensivo Leopardi nell'auditorium della scuola il coro degli alunni della primaria si è esibito condividendo la scena con un ospite speciale ovvero il baritono di fama internazionale Nicola Laimo artista da anni adottato da Pesaro, a Laimo ha una figlia che frequenta proprio la Leopardi e ha accettato di duettare con i bambini regalando alla scuola uno splendido dono natalizio per cantare con i bimbi e per i bimbi è per me un giorno veramente importante molto bello perché è appagante ricevere i complimenti dei più piccoli come sappiamo sono forse le creature più dirette sono le creature che ti dicono in faccia la verità quindi quando un bimbo ti guarda così curioso e ti dice ma tu come fai a cantare oppure ma tu hai una bellissima voce ma tu canti bene allora sono i complimenti più sinceri più diretti e ti fa immensamente piacere per me è veramente un privilegio e anche un'emozione un'emozione forte in questi giorni di festa a poter essere a contatto con i bimbi e quindi sono molto felice e contento di essere qui fra aree del barbiere di Siviglia e sonorità tipicamente natalizie emozioni di studenti e applausi dell'istituto scolastico che nell'occasione ha visto Alaimo accompagnato dalla prima esibizione pesarese dell'orchestra sinfonica delle scuole marchigiane eroica sono particolarmente orgogliosa di avere questa orchestra qui perché debutta a Pesaro cioè a Pesaro non c'è mai stata un'altra occasione per esibirsi e si esibisce da noi e con il maestro Alaimo beh cosa voleva di più insomma effettivamente penso che si possa comprendere la nostra come dire un po' di emozione mi piace sottolineare che la nostra scuola non è a indirizzo musicale però facciamo di tutto per offrire alla nostra utenza una vasta come dire varietà di offerte culturali e questa quindi rientra in queste e sono contenta che il maestro Alaimo con tanta umiltà abbia accettato di partecipare a questo evento e gli sono particolarmente grata perché il maestro Alaimo ha un calendario fittissimo di impegni domenica mattina ad esempio era in senato a cantare a esibirsi alla presenza di Mattarella e domani io so che già riparte e quindi siamo veramente onorati di questo evento detto questo sottolineo che il maestro Alaimo si esibisce in maniera totalmente gratuita però l'evento ha dei costi dovuti essenzialmente all'orchestra e siamo stati aiutati a svolgere questo evento dalla generosità di qualche sponsor parlo di Marche Multisevizi inoltre il Conad di Via del Novecento che è stato molto ma molto generoso nei confronti dei bambini ed ora lo sport, primi bilanci, nuovi obiettivi e l'innesto di Cinciarini nel roster auguri di Natale e buoni propositi per il 2024 della VL nella sua tradizionale cena di Natale che quest'anno si è tenuta al Charlie Urban Hotel alla presenza di squadra, società, consorziati e anche delle nostre telecamere siamo a dicembre come ogni anno la città di Pesaro si veste di adobbi e di luci in un clima sereno, disteso, allegro la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro si è ritrovata qui all'hotel Charlie in Viale Trieste per fare un caloroso augurio di buon Natale e di buone feste a tutti i suoi giocatori, staff, coach ma anche a tutti i suoi consorziati, elemento imprescindibile per la crescita di questa società ecco andiamo ora a sentire le parole dei protagonisti su questo appuntamento da almeno 12 anni i proprietari sono i consorziati che in questo momento sono 33 e che sostengono generosamente la società e ci mettono anche passione e anche molto entusiasmo quindi sono risultati molto importanti, il totale fra consorziati e sponsor è 135 questo è l'ultimo dato, quindi ci fa ben sperare anche per il futuro credo che questa sera sia una serata di festa, Natale ormai è vicino, anzi è quasi arrivato quindi è bello farsi gli auguri tra tutti quelli che ci danno una mano, tutti i nostri collaboratori tutto il mondo vuole, quindi questa sera l'importante è questo e poi c'è il campo il campo si lavora ogni giorno per migliorare sempre le complicanze ce ne sono sempre, io la valutazione della squadra la farò a fine stagione farla adesso sarebbe inopportuno, la faremo a fine stagione o comunque direi che ancora non si è anche a metà campionato, quindi vediamo un attimino ancora presto la squadra è consapevole di pregi, difetti, limiti, sappiamo bene chi sono gli altri stiamo lavorando con forza quotidianamente e sappiamo benissimo che certi miglioramenti vengono col lavoro, col tempo, capisco che si vogliono ottenere velocemente però noi abbiamo un quadro molto chiaro, forse siamo quelli che ce l'abbiamo più chiaro di tutti su cosa vuol dire anche affrontare questo campionato ma ci stiamo lavorando e ci lavoreremo, indubbiamente nelle prossime partite dobbiamo non solo alzare il livello di prestazione ma anche portare a casa il risultato Le diverse uscite che ha fatto da quando è main sponsor ha sempre ribadito questo obiettivo delle Final 8 è presente anche per questa stagione? L'obiettivo non è solo quello delle Final 8 ma anche quello dei play-off e io ho quello che ho sempre detto in questi anni che come basket italiano oggi il format che secondo me la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro oggi può, poteva e potrà essere più competitiva è il format delle Final 8, quelli degli scontri diretti perché per ovvi motivi come tutti sappiamo non abbiamo a oggi magari una squadra pronta da affrontare più scontri come nei play-off le Final 8 è un format bello, vincente, intenso che si gioca in due o tre giorni è un obiettivo ancora vivo, ancora raggiungibile e io spero che la squadra ce la metterà tutta per ottenere almeno questo risultato quest'anno Un arrivo che ha scaldato il cuore dei tifosi della Carpegna Prosciutto Ho iniziato a conoscere gli schemi, l'allenatore, cosa vuole, i ragazzi, i miei compagni ho provato a stare in panchina dal vivo la prima partita e quindi a vedere l'ambiente ed è un ambiente sinceramente dove al di là della situazione attuale che non è delle migliori però di sicuro avere tanta gente al palazzo è stato per me molto bello io che sono pesarese, io che sono parte anche di questa città e che voglio veramente dare tutto me stesso per cercare di creare un qualcosa di magico e riportare comunque quell'attenzione che Pesaro deve avere e soprattutto una città che vive di basket voglio che ritorni l'entusiasmo L'entusiasmo lo ricrei oltre a vincere anche giocando duro, anche giocando insieme anche tirando fuori la famosa tigna pesarese che magari in pochi conoscono ma che io che sono pesarese la conosco molto bene E vi ricordiamo che altre interviste riguardanti questa cena di Natale della VL saranno visibili su Rossini TV in uno speciale d'approfondimento che andrà in onda lunedì 18 dicembre alle ore 20 Si conclude qui il nostro telegiornale come di consueto prima dei saluti vi ricordiamo alcuni appuntamenti della nostra prima serata subito dopo il TG alle 20 ci sarà uno speciale dedicato alla Supertombola della Fortuna allo Sport Park di Fano uno speciale realizzato dal nostro Paolo Pagnini che potrete come detto vedere subito dopo il TG alle ore 20 Ancora basket, quello di insieme a canestro quello che come ogni giovedì sera vi trasmettiamo in diretta con il focus sulla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro appunto insieme a canestro condotto dalla nostra Elisabetta Ferri che questa sera avrà come ospiti il preparatore atletico della Carpegna Prosciutto Basket Roberto Venerandi e il giornalista Raffaele Vitali oltre come sempre alla possibilità di interazione in diretta di voi telespettatori al numero whatsapp dedicato 370-366-7210 e infine vi aspetto domattina con Buongiorno Rossini la nostra rassegna stampa dei quotidiani locali in diretta dalle ore 7 e 20 Si conclude qui invece Rossini News vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata con i programmi di Rossini TV